Guardate, se ci frattete, sono temi su cui non solo il cittadino ha diritto di isprimersi, ma le istituzioni dovrebbero impegnarsi per chiedere ai cittadini di provavenza. Fanno l'esatto contrario, cercano di impedire il risultato del federal, cercano di frapporre ostacoli a che si va a votare, invece su beni così primari come l'acqua, l'aria e la legalità. Io credo che in uno stato di diritto, in uno stato democratico, al primo posto si dovrebbe mettere proprio lo sforzo di chiedere ai cittadini come la pensano e di adeguarsi a quello che pensano i cittadini.